Min Calabria fa visto l'Igheja l'aletta ta weghetu erba in Sena, da nuwa l'attor tali amra al Bova, a bel bedal carriera ta' turchi impromettenti fejit kwa l'hom, se ciori l'usar Malta o millewe l'induna bil potenzial ta' paizna. E devo dire che la prima volta che sono venuto leggendo la sceneggiatura, questi sono giusti veramente, vedendo tutti i posti di Malta vedevo che erano perfetti per il nostro film. Come un delfino e ti ngebet fatta sito in paizna, il film che ti ha osservato a dei, sa te legge ma ta' meiu. La disponibilità di Malta e i posti di Malta erano perfetti per la nostra sceneggiatura, perché comunque vogliamo raccontare la natura, vogliamo raccontare il mare, vogliamo raccontare delle belle, avere delle bellissime scenografie, e questo Malta si prestava veramente molto bene. Come un delfino set kun fu erba episodi tasijaw nofsil wahda, l'istoria jadwar zazuhsqalli liwa gawin professionali, li sda min habba kondizjoni fqalbu, ma setaxi kompliħu ta' riċtijaw, ma dan kolli bqa determinati li bximotju iħor, jame l-succes fdini d-disciplina sportiva. Grazie a tutti.